Claudio Smagnotto della fabbrica Birifizio Artisanale Trentino, quali sono i prossimi prodotti che usciranno da Ospedaletto? Adesso da gennaio 2012 abbiamo deciso di cambiare completamente la nostra strategia, ripartendo dal territorio dal basso verso l'alto. Una delle strategie principali che abbiamo deciso di adottare è di uscire esclusivamente in formato da 0,75. Difatti da gennaio della produzione trentina lancieremo la birra palsugana Lager in formato 0,75. Dovrebbe seguire dei mesi successivi sia il prodotto La Rossa del Brenta che sarà una birra ambrata di 6,5 gradi e la ronda del Brenta che sarà sempre una birra di tripla fermentazione di 9 gradi. Abbiamo cominciato anche gli esperimenti nel settore autoreca per quello che riguarda la commercializzazione della birra cruda e abbiamo avuto dei riscontri molto positivi. Speriamo anche di arrivare a commercializzare con la catena del freddo la birra cruda direttamente sui punti vendita.